Musica Presto, che bello è Michele, quanti anni è che non vediamo la luce al Coppi? Tu quest'anno hai portato anche la luce al Coppi, è stata dura? La luce al Coppi è stata dura, però adesso facciamo gli scongiuri, sta reggendo, diciamo che la Sampdoria ci ha fatto i complimenti sia per il campo che per la struttura, hanno trovato un ambiente che non si aspettavano, quindi noi siamo contenti, adesso incrociamo le dita, speriamo vada tutto bene fino alla fine, ma siamo contenti così. Fabio, noi oltre che tu il precedente e io un modesto tornitore, siamo anche amici, ogni tanto parliamo, quante difficoltà ci sono in questa squadra della Serie D, in Serie D, dopo tutti gli anni, dopo tutte le palate di, non voglio dire cose, che abbiamo ricevuto negli anni passati. Tante, tantissime, noi abbiamo fatto due mesi, tre, diciamo, giugno, luglio, agosto, laboriosissimi perché la D è cambiato comunque il discorso dell'approccio ai giocatori, procuratori, trattative, tante cose, quindi dico è difficoltoso. Sinceramente però fare una partita così stasera contro una Sampdoria che ti dico, dice che sono stati accolti meglio che in altre piazze e con questo tipo di competizione ripaga tanto, poi vediamo durante l'anno come andrà, però sì, difficoltà ci sono, ma bene così. Diciamo che adesso è una struttura diversa, la società è stata potenziata, potenziata, c'è qualcuno che magari ti dà una mano e diciamo che siamo in una ottica diversa anche per te che sei un po' magari un po' alleviato da certi problemi. Beh, ma è inevitabile, abbiamo dovuto dotarci di un segretario che è qua praticamente quotidianamente tutto il giorno, un direttore generale che abbiamo annunciato ieri che è Roberto Canepa, Cristiano Cavaliere in società lo sapete, il resto dello staff è stato confermato tutto, ci sono tante persone che ruotano intorno a una squadra di calcio e anche in un direttore in Serie D le persone impegnate quotidianamente non sono poche, ve la sicuro. Poi un bel 0-0, una bella squadra, mi è piaciuto tantissimo, il 2 Gualtieri vedo che veramente è un bravo giocatore, ho visto la partita anche con l'Accademia Pavesi, insomma una bella squadra, l'Ipani lo trovo un bel giovane, ci sono anche tanti bravi giovani perché in Serie D i campionati si vengono anche con i giovani. Allora i due ragazzi dell'Entella che hai menzionato tu Gualtieri e Lipani, secondo me sin dai primi allenamenti hanno fatto vedere che sono ragazzi che questa categoria la possono fare bene, tutto il resto come sapete è stato fatto un setaccio per tutto il mese di agosto tra 17-18 elementi, adesso deve ancora essere definita la rosa, però riteniamo che 7-8 persone di qualità anche sotto l'aspetto dei giovani ci siano, quindi secondo noi si è lavorato bene anche lì, poi come sempre il campo a dire se è così o no. Però ti dico la soddisfazione più grande stasera, torno da come avevamo iniziato e vedere le luci a casa nostra. Noi siamo contenti, siamo contenti perché lo Stradio nell'arco di tre anni ha ripreso vita, questo è stato un passo difficile perché comunque il discorso dell'inominazione ci stava un po' in gola e volevamo risolverla, per ora sta andando bene, i lavori fatti sono stati tanti, ne stiamo facendo ancora, la struttura è sempre nel primo posto. Grazie anche a tutti i ragazzi che ci lavorano intorno, che ti danno una mano giornalmente, che i problemi sono tanti. Qua ci sono persone che quotidianamente lavorano come Franco, il De Brando, ma tante persone, bisogna ringraziare tantissime persone perché tenere uno stadio è una cosa laboriosa e dico ringraziamo che abbiano questa passione, questa voglia e dobbiamo andare avanti in tanti per forza perché se no sarebbe impossibile. Ci toccherà vincere anche questo campionato Fabio? Posso andarmene? Finita l'intervista? Grazie Fabio. Volevo solo ringraziare, non ancora abbiamo avuto l'occasione, Gigi Ronca per l'interessamento per l'organizzazione di questa partita perché ha fatto tanto, lo ringraziamo. Ecco, questa è una grande cosa, noi pensavamo che l'avesse fatto Marco Pagano perché lui era detto stampa. Come voi sapete è un uomo di calcio da decenni e si è interessato e è riuscito a mettere in piedi questa cosa, adesso vedete stasera c'è il presidente Ferrero qua in tribuna, c'è tutto lo staff dirigente della Sampdoria. Tortone e tortona, grazie. Con Samuele Emiliano al termine del 3-0 contro la Sampdoria, Samu, una grande prestazione però al di là del risultato, ti abbiamo visto in palla, hai retto questi 99 minuti contro comunque una squadra di Serie A. Ma non è che Emiliano ha retto, la squadra ha fatto una buona partita, Danny secondo me è migliore in campo, abbiamo giocato una partita difensiva, quando giochi con una squadra di Serie A devi fare quello, però abbiamo fatto qualche ripartenza, abbiamo provato a giocare, fisicamente abbiamo retto, quindi siamo contenti della prova, logicamente dispiace perdere però possiamo perdere con la Sampdoria. Qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più del reparto difensivo, di te, di Danny e invece quello che secondo te c'è da migliorare al di là dei tre gol? Sicuramente la sintonia, è come se giocassimo da tanto tempo insieme, invece siamo qua da un mese, quindi quello fa pensare bene per il futuro, quello che abbia sbagliato, vabbè sbagliato, logicamente abbiamo preso un paio di gol che si potrebbero evitare, però c'era un po' di stanchezza, loro erano freschi, quindi logicamente bisogna migliorare, però ci può stare con la Sampdoria. Peccato non aver segnato poi quel gol, magari nello 0-0, abbiamo avuto un paio di occasioni e lì sembrava veramente aperta la gara. Sarebbe stato veramente bello, quindi dispiace, però sono contento della prestazione della squadra, dell'impegno che ci abbiamo messo, quindi va bene così. Grazie, grazie Samuel Emiliano. Ciao. Buon inizio di campionato. Ciao Roberto, come ti sembra la Prima al Coppi? Tanto buonasera a tutti, la Prima al Coppi mi sembra una buona prestazione, un primo tempo 0-0 direi perfetto, fase non possesso, con anche delle buone ripartenze, i ragazzi hanno interpretato, il mister lo staff, in maniera corretta la partita, bella cornice, peccato per il pubblico che poteva vedere veramente un bel Dertona, oltre che vederla a Sampdoria in una delle prime uscite stagionali. Ci abbiamo fatto la bocca buona nel primo tempo, 0-0 con la squadra di Serie A, pensavamo almeno di portarci a casa un pareggio, però insomma tanta roba va bene, come hai detto, una bellissima prestazione di Draghetti, una bellissima prestazione di Emiliano Magnès secondo me e poi comunque tutti gli altri gli sono andati dietro, il 2, Gualtieri, veramente un ottimo giocatore come dove parlavamo prima, veramente avete messo su una bella squadra. Mi sento di dire che il lavoro fatto dal direttore sportivo Sacco con la nostra collaborazione è stato un ottimo lavoro e ci terei su tutti perché secondo me è saltato all'occhio e non sembra neanche un giovane anche la prestazione di Lipani, ma ripeto tutti i ragazzi, anche quelli entrati in secondo tempo, tanti giovani, tanti giovani entrati in secondo tempo avevano anche sulle gambe i 90 minuti del triangolare di ieri in quel di Gavi, quindi ottima l'approccio, ottima la prestazione. Ripeto, io metterei un asterisco su Lipani che ha fatto secondo me, ha fatto sembrare semplici cose che non lo sono e in particolar modo con una società di Serie A di fronte, con giocatori. A parità di squadra, se Ramirez entrava da noi, vincevamo noi. Ma adesso voglio andare a sottilizzare su questi particolari, ma a parità di squadra, ripeto, noi i nostri ragazzi che comunque hanno fatto molto bene, che sono entrati in secondo tempo, avevano sulle gambe i 90 minuti di ieri del triangolare di Gavi, quindi ripeto, nulla da recriminare, stiamo lavorando in maniera giusta, l'ho detto prima, siamo molto fiduciosi, la strada da percorrere è questa. Grazie Roberto. Grazie a voi. Con Luca Sacco, direttore sportivo di HSL Dertona, al termine di questo 3-0 con la Samp, intanto Luca, l'emozione oggi di vivere una giornata condivisa con la Samp Doria? Se penso che quattro anni fa la prima amichevole del Dertona in casa era la Torre Garofoli, un sabato mattina contro una squadra di eccellenza, ci ritorniamo stasera qui contro una squadra di Serie A, l'emozione veramente grande, è una soddisfazione per il lavoro che è stato fatto in questi anni, quindi bene, siamo molto contenti, siamo contenti di questa amichevole, siamo contenti di questa prestazione della squadra. Ecco, da qualche giovane si cercava anche qualche conferma, ottime prestazioni in precampionato, oggi abbiamo visto due su tutti, Gualtieri e Lipanni, che hanno fatto veramente una prestazione di livello, Gualtieri addirittura 90 minuti in campo. No, no, sono andati molto bene, sono due giovani che veramente stanno facendo bene da quando sono arrivati, ma io ci tengo anche alla prova di Mutti, ma di tutti, nel collettivo abbiamo fatto una gran partita, abbiamo fatto 60 minuti tenendogli botta e complimenti alla squadra. Che cosa ci lascia questo Dertona Sampdoria adesso in vista di una grande stagione che sta per iniziare? No, no, ci lascia che ci abbiamo da lavorare, ci abbiamo da lavorare, la strada è quella giusta, il mister sta facendo un gran lavoro, però teniamo sempre i vedi ben per terra perché stasera è stata una bella partita, una bella emozione, però da domani ci dobbiamo ritornare sul campo, lavorare per preparare questo inizio di stagione che sarà molto duro. L'ultima battuta te la faccio proprio sull'inizio del campionato, si attende ancora l'ufficialità del nuovo girone, abbiamo qualche novità in corso perché si attendeva per i primi giorni di settembre. Ma mercoledì dovrebbero uscire i gironi perché dovevano uscire questo fine settimana, poi li hanno fatti slittare a mercoledì, quindi aspettiamo mercoledì, stasettimana qui dovrebbero uscire sia i gironi del campionato e quelli della Coppa. Prevedi novità importanti? Dicono che potrebbe essere un girone piemontese, Ligure del Lombardo, come potrebbe esserci qualche Toscana, non lo so, aspettiamo, aspettiamo, siamo vogliosi di questo calendario perché adesso già da un po' che lo aspettiamo, siamo curiosi di in che campo andiamo a giocare, sicuramente saranno campi importanti perché se pensi a Lombardia ci potrebbe essere Varese, Legnano, se fosse la Toscana c'è Prato, comunque in Liguria si va a Sanremo, è un campionato tosto, c'è da tenere, c'è da stare sempre con l'occhio ben aperto perché sarà molto duro. Ma questo campo Luca per nessuno sarà facile, anche per 45 minuti per la Samp non lo è stato? No, per 60 minuti, però sì, questo qui è il nostro fortino, ma sarà, il Dertona a vendere a cara la pelle su tutti i campi, sia in casa che fuori, a maggior ragione in casa che poi dopo abbiamo l'aiuto del nostro tifo, quindi benvenga. Grazie direttore sportivo Luca Sacco. Ciao. Innanzitutto per me è un grazie al di là della partita di aver potuto portare la Sampdoria al Coppi, che erano tanti anni che non si vedevano amichevoli di questo livello, ma tantissimi, di aver portato alla luce il Coppi, che dal 2013 che non si vedeva con la Novese, questi sono risultati grandi, che praticamente un po' di merito ce l'avete un po' tutti. Ma sì, ti dico, è stata una bella serata, peccato per la mancanza del pubblico, perché secondo me stasera potevamo fare un bel numero, però va bene, abbiamo riportato la luce al Coppi come in Ducitè e siamo contenti di come sta andando la preparazione, come stanno andando ai ragazzi, insomma ci stiamo avvicinando al campionato secondo me nella maniera giusta. Sì, questa è una cosa bellissima. Noi abbiamo fatto una bellissima prestazione nel primo tempo, Draghetti, Emiliano e secondo me Magnecco, il terzino, Giovene, Gualtieri soprattutto, però volevo darti un'informazione che tu saprai senz'altro. Ramirez non ha ancora firmato nella Sampdoria. Ma non lo so, se lo dici tu, secondo me firmerà tra poco, per noi è una cosa... Tu dici, ma il posto è già occupato da Draghetti. Sì, il posto, noi ci teniamo ai nostri giocatori, poi vabbè quelli della Sampdoria sono forti, però noi crediamo molto nei nostri giocatori, nelle nostre scelte e ti dico la squadra dovrebbe essere completa, salvo forse ancora un tassello però... Tu che sei il direttore, mi puoi dire se abbiamo veramente bisogno di un centroavanti, là davanti o... Ma bisogno, diciamo che se arriva lo prendiamo volentieri perché comunque, come ci siamo detti prima, il campionato sarà lungo, per cui con Palazzo e altri giocatori che, secondo me, non riusciranno comunque a fare tutte le partite, se arrivasse una punta, una punta di peso come vorremmo, allora potremmo essere molto più incisivi. Comunque, qualsiasi sia il girone, adesso diceva prima Luca che probabilmente mercoledì se ne saprà di più, però insomma, girone che sia la Serie D, molto difficile, le squadre sono tante. Passeremo da Castelnuovo, Belbo, a Varese, caro Fabrizio, e tanta, tanta, tanta roba qui. Dobbiamo tutte le domeniche riempire lo stadio, incitare i leoni, se lo meritano i ragazzi, ve lo meritate voi. Io parlo da tifoso perché io parlo sempre di pancia, posso ricevere tante critiche, che non mi interessa. Non avevo squadra, adesso è una grande squadra, ho la Luce, ho la Sampdoria. Passo, come ti dicevo prima, da Castelnuovo, Belbo, a Varese, a Casale, a Sanremo. Eh, sì, secondo me sarà un bel campionato e noi ci arriviamo comunque con l'umiltà perché, ripeto, il nostro obiettivo primario è la salvezza, come diciamo tutti gli anni, e poi strada facendo vediamo. Se siamo bravi andremo magari nella parte alta della classifica e se no lotteremo fino alla fine e non ci teneremo in diritto di sicuro. Ho parlato col precedente tra il primo e il secondo tempo, anche lui è d'accordo che, insomma, abbiamo costruito una buona squadra e quindi se capiterà l'occasione ci sarà la possibilità di un altro innesto e quindi siamo una bella formazione e invito, quando si potrà, invito i miei connazionali tortonesi a venire allo stadio. Sì, perché, ripeto, loro sono la nostra, i tifoi sono la nostra arma in più, per cui se i giocatori si girano e vedono la tribuna, non dico piena perché non può essere, però è gremita di gente, è un'arma in più, ecco, noi loro soprattutto con questa tifoseria qui vanno a nozze, ecco. Grazie mille Fabrizio, in bocca al lupo per tutto il campionato. Grazie, grazie a te, grazie a tutti, siete sempre fantastici che ci seguite sempre. Grazie, buonasera. Grazie Fabrizio. Buonasera mister Pellegrini e buon inizio con questa bella partita di precampionato con la Sampdoria, che emozione è stata Pelle? Intanto riviviamo una partita bella, con il Coppi, è venuto alla squadra di Serie A dopo tanti anni, poi il precampionato così è una cosa ancora più bella. è stata una partita difficile, siamo contenti però perché abbiamo fatto secondo me i primi 70 minuti una grandissima prestazione, abbiamo avuto anche un paio di occasioni per poter far gol e quindi non abbiamo solo difeso ma abbiamo fatto secondo me una buonissima prestazione. Poi è normale che dopo quando cagliamo un po' di intensità loro hanno delle giocate importanti e quindi dopo dal stantesimo al novantesimo è stata un'altra partita, però sono contento, lavoreremo per arrivare al novantesimo e sicuramente stare meglio. Al sessantesimo con quel tiro di Michi, Spoto, forse ci stavi credendo anche tu, ti ho sentito tirare un paio di urla per dire dai che... Ma sì perché sinceramente noi abbiamo quel DNA di provare a vincere contro chiunque, è normale che oggi era impossibile, però è una squadra che deve capire che possiamo far bene, possiamo dire la nostra nel campionato ma ci vuole grandissima umiltà, bisogna tenere i piedi per terra anche perché queste prestazioni sono quelle cose un po' da stare attenti perché non c'è né da montarsi la testa né da deprimersi, quindi sono prestazioni importanti perché giocare contro una squadra del genere e fare questa prestazione non è facile. Sono contento anche perché abbiamo sotto il piano del palleggio abbiamo fatto delle buone giocate, quindi anche con personalità, con ragazzi giovani, quindi sono contento perché abbiamo dato una conferma di quello che stavamo facendo finora, del precampionato che stiamo facendo. Ci racconti un po' le scelte tattiche, siamo abituati ormai da tre anni al tuo 4-3-3, quest'anno il trequartista Draghetti sicuramente ha portato grande novità, raccontaci le scelte con Draghetti in tre quarti, Conkas che parte un po' più indietro, invece Spott e Palazzo che sono partiti davanti. Sì, abbiamo cambiato modulo anche perché abbiamo preso dei giocatori adatti per fare magari altri moduli, abbiamo preso Draghetti che è un trequartista, quindi abbiamo provato a cambiare modulo e poi quest'anno abbiamo delle mezzale che hanno gamba e quindi giustamente possiamo fare anche quel tipo di gioco perché c'è da coprire più spazio sinceramente a mezzo al campo, abbiamo preso Conkas, abbiamo Manes, abbiamo Maione, abbiamo i ragazzi giovani Mutti, abbiamo Ex, abbiamo Cantè, abbiamo Lipani davanti alla difesa, quindi abbiamo tutta gente che corre, secondo me questo modulo qua ci può dare gran beneficio e anche davanti poi Michele e Palazzo hanno fatto molto bene, quindi a prescindere poi da moduli secondo me se abbiamo questa intensità e questa voglia, questa fame che deve rimanerci possiamo veramente dire la nostra, nel senso dobbiamo cercare di tenere veramente piedi per terra e fare le cose fatte bene. Grazie M. Pellegrini. Grazie.